La mia mia mamma aveva un uomo e la femmina. Dopodiché il mio mario abbiamo fatto una coppia per andare a casa e poi abbiamo fatto معulu, abbiamo fatto un uomo e poi abbiamo fatto la vaca. 40 giorni. Dopo, pare, aveva un frio, un granofluo, senza le cantri. E se aveva un belè, aveva una macchina a bur, che aveva un tzappo la parte. Pare, e che le copiava tutto. E che si può me che lo fii, che arriva alla parte, che viense e viense, che viense e viense, che viense e viense. Se si può me che lo fii, e si fii per fare sempre. Ma non chiedeva. Lo peggio a fiii. Lo peggio. E se fa bene? Non, sempre la lama. Non aveva un impegno di fiii. In Corea non. Non è in Corea. Come si fiii? Lo peggio non lo dì a sede. Lo peggio non lo dì a sede. Lo peggio. Lo peggio non lo dì a sede. Ma poi dì che non fiii qui. Le buon lì vien. Le buon lì vien. E poi è che si può me che lo fiii. Che tazzona esce che ti viva? Che t'è? Non è. Che t'è? E poi se tu ti viva la mano, o se ma se che io ti viva un fiii? Chi è? E poi è finito l'onore. Avella, che li viva le zone. Perché lei sei, è grande, non è? Il coperà le dè. Come la dama, si è figli come la dama. Quando avevi la poteglia o non poti fare? La teniamo a filarino? La colegna? No, mi arrivi con la colegna, ma... Te l'ho dai la colegna? E quindi la fumigola, mi vede la colorista la colegna. Mi vengono in barattona, la colegna, la via te la colegna. Come ogni italiano? L'ho dai la colegna, ma che s'era prima via quello corpo. Che figli avevano la canna? Fino la tela. Le bambini? Le bambini? E voi figli voi necce? No. Non, non mi vede sei grande. L'ho da Zangoa, lì che fino la tela. E poi sono le Iadele che sono lì a Zampuzzi. Ma che ne chiamo che Zampuzzi? No, no, non si è un portore a fare a Zampuzzi. E poi le primi tre, sali di ogni bar. Non si è un portore a Zangoa. Non si è un portore a Zangoa. Non si è un portore a Zampuzzi. E lì, il portore a Zampuzzi, all'inizio, che si è un portore a Zampuzzi, e si è un portore a Zambombla. non si è un portore a Zampuzzi. e non ci cacciano oggi. Allora, se non c'è un giorno, queste pesce, io ho una cannappa che sei in una terra comostissimo. Noi, siamo qui in una vincola che si è diventato in griglia come motiva, perché non c'è un po' che ci vengono, non c'è un po' che ci vengono e non c'è un po' che ci vengono a me e a me poi abbiamo una cazzola di ponte chi è un po'? La mia cazzola è stata un po' che aveva un po' che aveva scena come c'era dell'azienda e l'azienda e poi avevano tutte le sedie e poi sempre al pezzo, sempre al pezzo, sempre al pezzo, anche perché le dalle vengono bene proprio ma sotto le dalle vengono bene, perché sotto le dalle vengono bene, perché le dalle vengono bene ma qui le belle branze, quelle belle branze, non vi mettiamci salle l'insuderita perché sennò l'esotta e voi potrò prendere l'insuderita ce l'avete preso, queste preppe fai via e le città sono i figli, tre risotti per fai volo chiede e colo l'esotta Grazie a tutti